Cari amici, l'altra sera Rete4 ha trasmesso un film della serie di Don Camillo e Peppone, i due personaggi, il prete democristiano e il leader comunista di paese, inventati da Giovannino Guareschi. Il film è andato bene, ha realizzato il 6,5% di share in prima serata, sono ascolti altissimi e questa caratteristica, cioè di ottenere sempre un buon risultato, Don Camillo la condivide solo con Rambo, credo, cioè tu metti un loro film di Don Camillo o di Rambo in prima serata e ottieni sempre ascolti più che soddisfacenti, ma un risultato più che soddisfacente è quello ottenuto da Giovannino Guareschi che a 50 anni, con il consueto ritardo di mezzo secolo, viene celebrato anche dalla sinistra, ad esempio da Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e esponente di spicco del Partito Democratico. Finalmente si sono accorti tutti quanti che Giovannino fu un grande scrittore, fu un grande umorista, fu un grande vignettista, fu un grande soldato, fu anche un uomo tutto in un pezzo. Finì in un lager militare pur di non collaborare con i nazisti e questo già ci dice che la resistenza evidentemente non è stata tutta rossa, ha espresso un anticomunismo popolare però addolcito dal cristianesimo, quindi non cattivo, ha pagato un conto salato per le sue idee assolutamente eretiche nel mondo della cultura italiana. Fece un'inefficacissima propaganda per la democrazia cristiana in occasione delle elezioni decisive del 1948 e come premio ne ebbe successivamente una querela per diffamazione, il diffamato era Alcide De Gasperi e Giovannino finì in carcere e scontò la pena fino all'ultimo giorno, cosa che è rimasta unica nella storia della Repubblica. Comunque i libri di Giovannino sono tradotti in tutto il mondo, i film abbiamo detto sono replicati in continuazione, ogni volta fanno ascolti, mostrano un'Italia divisa ma più gentile di quella di oggi, il comunista Peppone ha senz'altro torto però Don Camillo conosce la misericordia di Dio e Peppone in fondo è in grado di riconoscere i propri eccessi. Quindi Guareschi è un po' il simbolo della provincia italiana e siccome l'Italia è tutta provincia, soprattutto a Milano e Roma, è il simbolo dell'Italia intera. Chi è nato nella bassa poi ha la fortuna di trovare delle descrizioni bellissime dei fiumi, degli argini, della nebbia e così via. Ma io adesso voglio consigliarvi in realtà un libro molto bello, è un libro che si intitola Giovannino nei Lager di grande formato, però di prezzo contenuto e in questo libro sono raccolti tutti gli scritti dal Lager di Giordino Guareschi, quindi la favola di Natale che è una favola che spezza il cuore, scritta in prisionia per i suoi figli che erano a Busseto, poi c'è il diario clandestino e poi ci sono gli scritti del ritorno alla base. Il tutto è corredato da dei disegni bellissimi di Giovannino stesso. Queste pagine sono veramente importanti perché fanno impallidire le carrettate di romanzi neorealisti, neocomunisti, neofilosovietici, quasi sempre scritti da ex camicie nere che avevano poi, al momento giusto, sfilato appunto la camicia nera per indossare quella rossa. Quindi comunque è bene che Giovannino sia patrimonio di tutti e non di una sola parte, però sarebbe anche ingiusto dimenticare che Palmiro Togliatti definì Guareschi tre volte cretino e che l'unità nel coccodrillo di Giovannino scrisse del malincone melancolico tramonto dello scrittore che non era mai nato. No cari miei, era nato e come? Eravate voi a dormire.